Rieccoci su Sicilia 24, ritrovati la cronaca in primo piano in questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Una società con sede in Moldavia era di fatto gestita a Racalmuto, nell'Agrigentino. Per questo è indagato un imprenditore. Tutti i dettagli nel servizio. I militari del Comando Provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro preventivo di denaro e altri beni immobili e immobili nei confronti di un imprenditore originario di Racalmuto, indagato per omessa dichiarazione di redditi prodotte in Italia ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dall'ufficio del GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale procura della Repubblica. L'indagine giudiziaria scaturisce da una verifica fiscale condotta dalla tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì, che ha contestato all'imprenditore di essere l'artefice di un sistema evasivo di cosiddetto esterovestizione. L'imprenditore infatti avrebbe fittiziamente stabilito all'estero, precisamente in Moldavia, il domicilio fiscale di una società che produce cofani funebri, di cui lo stesso è amministratore, gestita di fatto in Italia, utilizzando poi una seconda società di diritto italiano con sede a Racalmuto, dallo stesso gestita ancorché formalmente amministrata dalla moglie, in realtà priva di un'effettiva struttura aziendale per l'esercizio di attività di impresa, per creare, mediante il ricorso all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti fittizi rapporti triangolari tra la società esterovestita e le imprese acquirenti italiane. Nel corso delle attività di verifica fiscale e delle successive indagini di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti e acquisiti molteplici documenti di natura fiscale, contabile e societaria, comprovanti che la società Moldava era di fatto gestita da Racalmuto. Attraverso il suddetto sofisticato sistema evasivo sarebbero stati occultati al fisco italiano dal 2013 al 2018 ricavi per 15 milioni di euro circa. Restiamo nell'Agrigentino ma ci spostiamo virtualmente a Porto Empedocle dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 33enne di Raffadali con l'accusa di violenza e minaccia pubblico ufficiale e guida senza patente. L'uomo infatti era in sella a uno scooter e viaggiava ubriaco e senza patente in quanto mai conseguita. Controllato dai carabinieri in via Francesco Crispi a Porto Empedocle, il 33enne all'improvviso è andato in escandescenza inveendo e minacciando i militari dell'arma, tentando anche di ostacolare le operazioni di sequestro del ciclomotore. Per questo, come detto, è stato denunciato. Ed ora a Trapani parliamo di immigrazione clandestina con la polizia che ha fermato due presunti scafisti. Erano alla guida di un'imbarcazione che aveva portato dalla Tunisia all'Italia alcuni migranti, i presunti scafisti sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani. I due uomini, entrambi tunisini, uno 23enne e l'altro 44enne, avevano guidato un gommone con a bordo altri 9 connazionali fino alle coste di Pantelleria, dove l'imbarcazione era stata soccorsa dalle autorità italiane. Gli operatori della Polizia di Stato, attraverso un complesso lavoro di escussione dei migranti ospitati sull'imbarcazione, nonché mediante l'esame dei telefoni cellulari in uso ai vari dichiaranti, hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico dei conduttori del natante. In particolare il più giovane, secondo la ricostruzione, aveva materialmente condotto il gommone, mentre l'altro indagato l'aveva coadiuvato aiutandolo nell'effettuare ripetutamente i rifornimenti di carburante durante la traversata. I presunti scafisti sono stati così sottoposti a fermo con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina e sono stati tradotti in carcere. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica. Proseguono le indagini per acquisire ulteriori elementi. Restiamo nel Trapanese, ma per parlare in questo caso di due persone denunciate dai carabinieri per furto e ricettazione. I carabinieri della stazione di Valderice hanno denunciato un giovane classe 94 per il reato di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Una serie di accertamenti eseguiti dai carabinieri, scaturiti da una denuncia di furto di una poste pay, hanno permesso di individuare e identificare il 28enne quale presunto autore dei prelievi in debiti per una somma di circa 150 euro a mezzo della carta di credito compendio di furto perpetrato all'interno dell'autovettura del denunciante. A Trapani invece i militari della sezione radiomobile durante un posto di blocco hanno sottoposto a controllo un diciottenne pregiudicato a bordo di un motociclo che all'esito degli accertamenti è risultato compendio di furto avvenuto pochi giorni prima in danno di un coetaneo. Il ragazzo è stato pertanto deferito in stato di libertà mentre il mezzo prontamente restituito al proprietario. Ed ora a Nicolosi nel Catanese dove i carabinieri hanno invece interrotto una corsa clandestina di cavalli e sono ovviamente scattate denunce e sanzioni. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno interrotto nel comune di Nicolosi una gara clandestina di cavalli denunciando in stato di libertà nove soggetti responsabili in concorso dei reati di maltrattamento animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimento tra animali e interruzione di pubblico servizio. Al riguardo i militari, grazie alla loro capacità info-investigativa, avevano appreso nei giorni precedenti che alle prime luci dell'alba si sarebbe tenuta una corsa clandestina di cavalli lungo le vie cittadine e che la gara avrebbe attratto un pubblico numeroso poiché attirato dall'elevata posta in palio per il vincitore ben 200 mila euro. In effetti i militari, appostatisi nelle vicinanze del luogo stabilito per la gara, hanno sin da subito osservato l'arrivo di diverse centinaia di persone radunatesi a bordo strada per assistere all'illecito evento sportivo. Nella circostanza i carabinieri, per evitare incidenti e tutelare anche l'incolumità di coloro che spontaneamente avevano deciso di partecipare alla corsa, come fantini o spettatori, hanno quindi deciso di rivelarsi e disperdere il pubblico, riuscendo comunque a bloccare uno dei due furgoni utilizzati per il trasporto degli equini, con all'interno uno dei due cavalli in gara già pronto per l'imminente partenza. L'animale è stato affidato in custodia al centro per l'incremento ippico per la Sicilia e sarà sottoposto alle analisi biologiche, farmacologiche e per la ricerca di sostanze dopanti da parte dell'ASP di Paternò. Elevate inoltre ai denunciati sanzioni amministrative per oltre 7 mila euro. Furto in un centro commerciale a Mister Bianco, siamo quindi ancora nel Catanese. I carabinieri hanno individuato e arrestato i due responsabili, si tratta di due palermitani, fratello e sorella, tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco, nell'ambito di un mirato servizio volto al contrasto dei reati predatori, in particolare ai danni degli esercizi commerciali, hanno arrestato in flagranza per furto in concorso un 36enne e la sorella 39enne, entrambi pregiudicati originari di Palermo. In particolare i militari, intervenuti presso un centro commerciale del comune di Mister Bianco, su richiesta del personale di sicurezza, dopo aver osservato la coppia girarsi con fare circospetto all'interno della struttura, hanno deciso di bloccarli interrompendo la loro attività delinquenziale. Difatti i due fratelli, al termine della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di diversi prodotti di profumeria e abbigliamento, di cui avevano peraltro danneggiato i congegni antitaccheggio e che di volta in volta, dopo averli sottratti, si erano adoperati a nascondere nei bagni del centro commerciale in vecchie borse. In particolare i due avevano fatto scorta sia di profumi di pregio che di capi di vestiario, rispettivamente rubati da una profumeria e da un negozio di abbigliamento di noti e costosi marchi, entrambi ubicati nella galleria commerciale. La refurtiva, del valore complessivo di oltre 800 euro, è stata restituita ai titolari delle attività commerciali derubate. I carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, hanno sottoposto i fratelli ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Sempre a Mister Bianco, i militari hanno denunciato un 33enne palermitano pregiudicato per il reato di furto aggravato. L'uomo, infatti, dopo aver scelto dagli scaffali svariati capi d'abbigliamento e accessori da un negozio ubicato all'interno di un centro commerciale, ha superato con nonchalance le casse senza pagare, dileguandosi tra la folla. Il 33enne è stato comunque immediatamente intercettato dai carabinieri, mentre ancora si aggirava, sgattaiolando tra un negozio e l'altro, con a seguito la refurtiva precedentemente rubata per un valore complessivo di 1800 euro. Parliamo di mafia. A Catania sono finiti in carcere quattro esponenti del clan mafioso Cappello. L'accusa è tentato omicidio, ma non solo. Vediamo il servizio. Sul delega della procura distrettuale della Repubblica, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di quattro soggetti ritenuti intranei al clan Cappello, a seguito della sentenza di condanna di primo grado, rito abbreviato, resa dal medesimo ufficio in ordine ai reati di tentato omicidio in concorso ai danni di Martino Carmero Sanfilippo e Rosario Viglianesi e detenzione e porto in luogo pubblico di almeno due pistole calibro 7,65. In particolare, il provvedimento ha visto come destinatari Rocco Ferrara, condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione, Riccardo Pedicone, a 14 anni, 6 mesi e 10 giorni, Gioacchino Spampinato, condannato a 14 anni, 3 mesi e 10 giorni e infine Luciano Tudisco, condannato a 14 anni di reclusione, già detenuto per altra causa. Il provvedimento costituisce lo sviluppo giudiziario dei gravissimi fatti di sangue avvenuti a Catania l'8 agosto 2020 e disvelati nel corso dell'indagine Centauri, quando un nutrito gruppo di soggetti, costituito sia da semplici affiliati che da esponenti di vertice delle organizzazioni mafiose, dei cursoti milanesi e del clan Cappello, decideva di affrontarsi usando le armi sulla pubblica via, causando due morti e diversi feriti. Esito che poteva essere ben più grave se si considera che il gravissimo episodio si è verificato nelle ore serali del mese estivo di agosto e soprattutto nel popoloso quartiere di Librino, nei pressi di un comparto abitativo caratterizzato da un'elevata densità popolare, dove i residenti sono soliti stazionare sul suolo pubblico. Durante le fasi di rintraccio dei predetti soggetti, Rocco Ferrara ha tentato di sottrarsi alla cattura scappando sui tetti del complesso residenziale di edilizia popolare di Viale Moncada. Tuttavia, l'articolato dispositivo di cinturazione dell'area ha consentito di localizzare nell'immediatezza il fuggitivo in un appartamento dello stesso quartiere, riconducibile a un pregiudicato. I tre arrestati in libertà sono stati tradotti presso il carcere di Catania Bicocca. Controlli da parte dei carabinieri del NAS di Ragusa, controlli che hanno portato a diverse sanzioni, poiché sono state riscontrate ovviamente tante irregolarità, tutti i dettagli nel servizio. Dal mese di giugno a oggi i carabinieri del NAS di Ragusa hanno effettuato 176 ispezioni che hanno determinato l'accertamento di irregolarità in 67 strutture, a seguito delle quali sono state segnalate all'autorità giudiziaria e sanitaria 62 operatori di settore e contestate oltre 140 sanzioni per un valore complessivo di oltre 132 mila euro. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 199 tonnellate di alimenti non idonei al consumo, eseguendo provvedimenti di chiusura o sospensione di 21 imprese commerciali irregolari. Principali obiettivi dei controlli dei NAS sono state le attività del settore turistico. Nello specifico, gran parte delle verifiche ha interessato il settore della ristorazione con ben 32 locali su 65 ispezionati che hanno presentato delle irregolarità. Tra le violazioni più significative la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, precarie condizioni igieniche dei locali presso i quali avviene la preparazione di alimenti, etichettatura non conforme e frodi commerciali. Violazioni diffuse hanno riguardato inoltre l'inadeguatezza di cucine e depositi, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e igiene e la tracciabilità degli alimenti. La strategia di controllo dei carabinieri NAS ha interessato anche altri ambiti di rilevante interesse estivo, tra cui gelaterie, stabilimenti balneari e villaggi turistici, acquapark e punti di ristoro autostradali. Le verifiche estive, oltre al contesto turistico e ristorativo, si sono estese anche al rispetto dei livelli di assistenza e cura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili. Sono stati 28 i controlli dedicati allo specifico settore, con 19 esiti non regolari e 6 strutture oggetto di chiusura o sospensione dell'esercizio. Le più frequenti difformità riscontrate riguardano carenze strutturali e organizzative delle strutture ricettive, sovrannumero di anziani all'interno delle stanze, l'insufficiente erogazione delle cure necessarie, somministrazione di terapie farmacologiche in assenza di requisiti e autorizzazioni al funzionamento mancanti. L'attenzione ispettiva dei NAS, infine, è stata orientata anche verso le guardie mediche, centri estetici, benessere e termali e palestre. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A dopo!